leggere sottolineare e ripetere leggere sottolineare e ripetere questo probabilmente è quello che ti sei sentito dire tante volte per imparare qualcosa in realtà quali sono le fasi dell'apprendimento da un punto di vista più accademico scopriamolo insieme allora la prima fase è la fase di codifica si chiama così ti codifica delle informazioni è il momento in cui tu apri il tuo libro ti metti lì davanti e dovresti decodificare i concetti trasformarli in immagini in esperienze reali contestualizzarle e andare a comprendere realmente quali sono i concetti chiave qual è la struttura di supporto quindi questa è la prima fase per farla bene ricordati che devi studiare per spiegare trasferire non ha senso andare avanti se non hai realmente interiorizzato i concetti pensa questa è proprio la prima fase dopo c'è la fase di ritenzione delle informazioni le ho comprese ma ne devo mantenere nella mia memoria come faccio per trattenerle sul lungo termine faremo tutta una serie di cose tornandoci sopra usando delle tecniche di apprendimento questo aiuta a rendere il ricordo più solido l'obiettivo è far diventare quelle informazioni parte delle nostre conoscenze una delle cose che trovo meravigliose che ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo non cambiamo come persone so che è sempre una frase esagerata ma in realtà andiamo a creare dei collegamenti nel nostro cervello che prima non c'erano e quindi da quel momento si dice che siamo delle persone diverse perché andremo a comportarci in modo diverso in determinati contesti questo è uno dei motivi per cui mi piace così tanto divulgare questo messaggio di essere avidi di apprendimento di avere quella fame che è un desiderio di imparare cose nuove se non manteniamo le informazioni la fase di codifica ha perso il suo vantaggio il suo valore perché non sono quelle informazioni non fanno parte del mio bagaglio ma che cosa succede quando io ho compreso le informazioni le ho in memoria ma non riesco a richiamarle nel momento del bisogno immagina ad esempio mentre stai parlando con una persona in un'altra lingua e non ti viene quel vocabolo ecco quell'informazione sai che ce l'hai sai che se qualcuno ti dicesse come si dice prelevare in inglese non ti viene se uno ti dicesse alla prima sillaba tu riusciresti a richiamare la parola corretta quindi quella informazione in memoria c'è ma non è stata collocata in modo funzionale per poterla richiamare nel momento in cui ne hai bisogno molte persone dicono avessi io la tua memoria riuscirei a passare tutti gli esami molto più velocemente pensando che la memoria sia la capacità di memorizzare possa essere la soluzione di tutti i problemi io non ho una memoria solo più allenata conosco delle tecniche e le ho allenate ho una memoria come quella di tutti come quella di un qualunque studente che si trova all'università delle difficoltà e dopo impara delle strategie e inizia ad allenarle qualcuno vedendo alcuni risultati pensa che sia una predisposizione in realtà non è così perché ti ho detto questo perché alcune persone pensano a se avessi la tua capacità di memorizzare mi metto davanti al libro e memorizzo tutto così come scritto no devo sempre davvero comprendere ci deve essere sempre la prima fase sono necessarie tutte tre queste fasi per misurare la nostra capacità di memoria ci sono dei test ovviamente dove ti danno un testo tutti metti lì lo studi dopo c'è una fase che si chiama di lei di ritardo di interferenza dove andiamo a fare altro che non coinvolge le funzioni cerebrali che abbiamo utilizzato nell'apprendimento e dopo facciamo un test dove dobbiamo rispondere a delle domande per capire quanto siamo in grado di richiamare quelle informazioni quindi da adesso in avanti quando sentirai devi leggere sottolineare e ripetere tu trasformano in codifica delle informazioni mantenimento delle informazioni e richiamo nelle informazioni buon apprendimento se il video ti è interessato e se ci sono altre cose che vorresti approfondire scrivono nei commenti e sarà un piacere andare ad approfondire e divulgarle ciao 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 ciao